insegnami o signore l'arte di sopportare coloro che si proclamano maestri di vita e trattienimi dalla voglia che mi prende di legarli tutti in un medesimo fascio e di buttarli nel più profondo del mare già è dura dover ricorrere a qualcuno che ti insegni abilità particolari scrivere parlare camminare toglie la soddisfazione di arrivarci da solo attraverso quel vecchio metodo per tentativi ed errori ma soprattutto fa sì che poi ti abitui a fare sempre come un altro ti ha indicato e non secondo le tue vere potenzialità vivere è un'arte così difficile ma soprattutto così contradditoria che ancora nessuno è riuscito a comprendere veramente e tantomeno a spiegare ci hanno approvato da sempre i filosofi ognuno con le proprie verità e se guardo bene in ogni filosofo trovo un po di verità ma poi la vedo contraddetta subito dopo da un altro o almeno superata o messa in dubbio da un altro ancora altrettanto convincente ci provano gli psicologi che fondano il loro sapere su principi che sembrano così fermi che subito però vengono messi in crisi da altre realtà o che funzionano solo per alcuni e non per altri ci prova la scuola col risultato che alla fine privilegia un sapere che con la vita non ha niente a che fare e che si riduce poi la scuola a una istituzione che tende solo a mantenere se stessa ci provano i genitori che spesso ottengono soltanto l'allontanamento dei figli e ci prova la tv col risultato di condizionare ad un tipo di vita strumentale ad una società consumistica e a imporre modelli che altri hanno deciso e che alla lunga non solo non sono funzionali alla vita ma sono funzionali alla non vita si provano le religioni col risultato di metterci in conflitto gli uni con gli altri per un dio che non si vede non si sente e che viene interpretato secondo la visione dei suoi più o meno falsi profeti e poi ci provano i social democraticamente a forza di aforismi e di frasi fatte su come dovrebbe essere la vita sui comportamenti che dovrebbero essere i migliori per affrontare ogni situazione col risultato che spesso dicono una cosa è il suo contrario e che per quanto si cerchi di metterli in pratica non danno mai risultati sperati la vita caro signore sembra un'arte davvero difficile che nessuno può insegnare e della quale nessuno può ergersi a maestro a costo di non mostrarsi buffo e sempliciotto incapace di pensare alla complessità perché solo chi ha un pensiero semplice basato su pochi assunti che vanno bene per tutto può pensare di essere maestro di vita anche se poi si difenderà sempre dicendo che si pone in un modo giocoso ironico quando sarà costretto a spiegare le proprie contraddizioni con giri e giravolte logiche in modo da forzare tutto dentro un contenitore che tutto non può contenere la vita poi è un'arte così difficile e rischiosa perché è una sola e il rischio di sprecarla nel solo tentativo di viverla al meglio è grande ma pur sempre in questa ricerca c'è vita c'è inventiva a volte c'è fantasia creatività nessuna soluzione preconfezionata nessuna medicina che va bene per tutti per evitare la fatica e le malattie che da questa ricerca possono derivare ogni individuo è un unico anche rispetto alla sua reazione ad un farmaco ogni medicina una specifica indicazione i propri effetti collaterali ogni soluzione semplice di fronte ai problemi complessi che il vivere pone ai suoi effetti collaterali che vanno affrontati ogni ostacolo che si supera definitivamente richiede uno sforzo personale di elaborazione dell'ostacolo e va guardato in faccia analizzato e non scavalcato senza conoscerlo il web poi è pieno di luoghi comuni e di aforismi che riguardano soluzioni da mulino bianco per situazioni che hanno a che fare col vivere quotidiano dove anche si incontrano le maggiori difficoltà proprio perché tutto dovrebbe essere semplice e non lo è mai più parlano con parole altrui che si adattano a interpretare e a consigliare comportamenti che dovrebbero andare bene universalmente secondo una logica che dovrebbe prevedere che c'è un unico modo possibile e buono di vivere insomma che il buono e il bene nella vita sta da una sola parte mentre sappiamo che i luoghi della vita sono tanti e ognuno ha le sue specificità le sue caratteristiche ambientali il freddo il caldo l'umido il secco parlare una lingua unica è omologante e nocivo insomma se possiamo dire qualcosa della vita dobbiamo limitarci a dire che riassume una serie di contraddizioni e di particolarità che non si possono includere in nessun paradigma unico ma le contraddizioni sono anche fonte di sintesi dialettica che nasce dalla volontà di superamento sia nell'individuale che nel collettivo e allora la vita è anche la morte parlare della vita significa affrontare la morte la bellezza sta anche nella bruttezza la libertà nella dipendenza la speranza nella disperazione la felicità passa per il dolore e l'elaborazione del dolore della sofferenza sono esperienze indispensabili cosa poi significhi crescere è un altro mistero visto che invecchiando si tende a ritornare bambini insomma o signore se questa vita l'hai pensata tu così com'è forse hai avuto i tuoi buoni motivi se la vita invece si è formata da sola perché ha trovato le condizioni per farlo allora lo ha fatto in miliardi di anni e se è diventata così è perché è il frutto di un processo lunghissimo con adattamenti progressivi cui nessun essere intelligente penserebbe di mettere mano con un provvedimento tipo un colpo di spugna senza provocare un qualche sconvolgimento in grado di mettere tutto a soquadro e allora o signore se puoi liberaci dai maestri di vita dagli imbonitori che vogliono darci soluzioni semplici da tutti coloro che pontificano e facci invece ascoltare le voci di tutti coloro che sperimentano in proprio la vita e attraverso la molteplicità delle loro voci ci danno l'unica rappresentazione reale e credibile di quanto sia complessa e difficile l'arte di vivere grazie o signore grazie a tutti